Se sei un fan di Barbara D'Urso, sicuramente non vedi l'ora di rivederla in televisione. Dopo mesi di assenza dal piccolo schermo, sembra che il suo ritorno sia sempre più vicino. Secondo quanto riportato da Dagospia.it, la conduttrice potrebbe presto approdare sull'ammiraglia di Warner Discovery. Ma cosa potrebbe condurre Barbara D'Urso su 9? Secondo le indiscrezioni, potrebbe prendersi la fascia pomeridiana del canale, una fascia ricca di inserzioni pubblicitarie. Dopo aver presieduto per anni Pomeriggio 5, conosce bene quel segmento televisivo. Sarà davvero vicino il suo ritorno in tv? Presto potremo avere conferme o smentite in merito. Le trattative con Warner Discovery, sembrano essere in corso, ma c'è un ostacolo da superare. Il contratto che lega la conduttrice al manager Lucio Presta potrebbe complicare le cose. Tuttavia, stando alle indiscrezioni, l'arruolamento di Barbara D'Urso non dovrebbe costare molto all'azienda americana. I fan dell'ex presentatrice di Pomeriggio 5 sono già in fermento sui social, nella speranza di poterla rivedere al più presto in tv. Resta quindi da attendere ulteriori sviluppi per scoprire se e quando Barbara D'Urso tornerà a farci compagnia sul piccolo schermo. Staremo a vedere.